Letta la targa? Siamo nel parco Vittore Arnaldo Marchi, siamo in via Nomentana, quarto municipio. Potevamo farci mancare l'appuntamento con il verde di questo territorio? No, assolutamente. Vi facciamo vedere in quali condizioni troviamo uno spazio verde molto molto bello, anche attrezzato ma con panchine deteriorate, che è rimasto in balia dell'ingegno delle persone che abitano questo territorio affinché possa essere mantenuto pulito. Guardate i cittadini che cosa si sono inventati per far sì di mettere le immondizie in un punto dove poi possono essere raccolte. In poche parole, mancano i cestini delle immondizie in questo parco, però a compensazione del fatto che mancano i cestini delle immondizie troviamo invece i carrelli che servono per trasportare le merci all'interno di un supermercato. Questo per esempio è un carrello dell'AGS che è arrivato fino qui a fianco a una valigia, un trolley. Questa è una buca che è occultata, quindi le persone potrebbero inciampare e cadere all'interno. E vicino troviamo un ombrello rotto, troviamo dei giornali, troviamo delle bottiglie, tante sporcizie. Sono vicine ad una fontanella in condizioni pessime. Qui qualcuno si sta approvvigionando di acqua, alla fontanella manca il coperchio e tutto intorno pantano e ancora immondizie. Per terra ci sono molti rami secchi che sono caduti con le piogge degli ultimi tempi e questi li troviamo un po' sparpagliati su tutta la zona, come troviamo anche degli altri rami appoggiati su tutta la circonferenza di questo spazio. Sembra un percorso di guerra perché qui stiamo facendo lo slalom fra le defecazioni dei cani perché l'inciviltà dei cittadini che posseggono animali non ha mai limite. Però sarebbe anche carino vedere finalmente, a breve, presto, subito, la polizia municipale multare le persone che portano i cani sciolti o vanno in giro senza la bustina. La campagna elettorale è appena iniziata. Questa è una pensilina dell'autobus, da questa parte vengono apposti i cartelli pubblicitari che poi puntualmente cadono con le piogge ma non c'è nessuno che li viene a portare via. Ecco la situazione che va ad aggravare già quella drammatica di sporcizia che c'è su questo parco. Ora è vero che le persone sicuramente non frequentano questo spazio perché è pieno di cacche e di cani, ma guardate le condizioni delle panchine, sono tutte rotte. Quindi se qualcuno vuole passare un poveriggio in uno spazio verde in via Romentana, chiaramente siamo a Roma, siamo una parte importante di Roma, guardate dove dovrebbe mettersi seduta. E così sono tutte le panchine di questo parco. Sono tutte rotte e nessuno pone rimedio per venirle a sistemare. Questa è una competenza sicuramente dell'ufficio Giardini, del decimo dipartimento, dell'assessore De Lillo che non pone fine a questa situazione di degrado su questo spazio che merita più rispetto. E colgo l'occasione anche per dire all'assessore De Lillo di darsi una mossa a consegnare i 60 furgoncini che sono arrivati e sono fermi presso il decimo dipartimento da circa un mese e mezzo. Dicono che mancano le scritte pubblicitarie, ma nel frattempo mandatele sui territori perché i territori hanno bisogno di questi mezzi per dare un aiuto a tutto questo splendido spazio verde. Quindi Presidente Bonelli, un pochino più d'attenzione e una sua sollecitazione importante all'assessorato, all'ambiente per risolvere questo problema.